Ha affrontato la carcerazione dell'ex marito con grande riservatezza. Ora, però, parla E lo fa affidando le sue parole, il suo sfogo, ad una story sul proprio profilo Instagram Recentemente in molti si sono chiesti chi fine avesse fatto il figlio di E. Carlos A rivelarlo è stata la nonna paterna, Gabriella, mamma dell'ex re dei paparazzi. Il ragazzo, 18enne, si trova all'estero Lo sento ogni tanto al telefono, aveva detto la nonna mi chiede sempre del padre a cui è legatissimo Come sapete è tornato in carcere dopo che i giudici hanno deciso di revocargli gli arresti domiciliari Alla base della motivazione il mancato rispetto della messa in prova che era stata concessa all'imprenditore Affetto da problemi di salute Il caso ha suscitato tantissime polemiche e creato due partiti. Da un lato chi sostiene che Corona dovrebbe essere curato fuori dal carcere e chi invece ritiene che la pena sia, tutto sommato, giusta Ora alza la voce per tutelare il figlio Carlos. Travolto come e più del padre dagli ultimi avvenimenti Carlos si trova a D'Agabria, presso i nonni materni. Dopo aver pubblicato una foto del ragazzo scattata in Croazia, Nina ha risposto alle insinuazioni di alcuni follower, ma soprattutto dei giornalisti Voci che la stessa modella definisce basate soltanto su una foto o una storia che non racconta nulla di così eclatante Non trovo corretto, scrive, che escano notizie poco attendibili sul mio conto basate soltanto su una foto o una storia che non racconta nulla di così eclatante Ho scelto la privacy e credo sia giusto rimanga tale, soprattutto quando si parla di mio figlio In questi giorni, dice ancora l'ex di, leggo articoli, il figlio è all'estero. Ecco perché Nina l'ha portato lontano o Carlos si trova in una località protetta Ma stiamo scherzando. Le vostre supposizioni complottiste sono davvero ridicole Quindi, prosegue, evitiamo questi spiacevoli titoli e lasciamo in pace quelli che devono essere protetti Non insinuiamo cose inesistenti solo per avere un titolo roburante. Non tutti vogliono essere un titolo Soltanto in un'altra occasione aveva rotto il silenzio sulla vicenda del ritorno in carcere dell'ex E stavolta ad essere accusata era stata niente meno che un giudice. Pubblicato l'8 aprile 2021 alle ore 15.23 Ultima modifica il 8 aprile 2021 alle ore 15.32